Amici, buongiorno. Oggi siamo a Milano, al Museo della Scienza e della Tecnologia, e siamo qua per raccontare la storia di uno dei caccia iconici dell'aeronautica militare degli anni 70, 80 e 90. Oggi parleremo infatti del G91. Partiamo dall'inizio. Come è nato il G91? Siamo a Lisbona. Nel febbraio del 1952 si sta svolgendo il nono consiglio della Nato. Questo consiglio deve sviluppare e indicare quali saranno le future linee guida di sviluppo della Nato nei prossimi anni. Durante questo consiglio si è deciso di dare un impulso per sviluppare dei programmi europei comuni, in modo da un po' svincolarsi dalla dipendenza americana che era predominante durante quegli anni. Quali sono gli attori che sono stati necessari per arrivare a questo punto? Tre attori principali. Il primo era il Mutual Weapon Development Program, il cui scopo principale era di mobilitare le competenze scientifiche e tecniche degli Stati membri, in modo da stimolare il raggiungimento di un sistema d'arma comune più efficace. Il secondo invece era SHAPE, Supreme Headquarter for Allied Power in Europe, che era ovviamente responsabile per la difesa della Nato nell'area europea. E infine il famoso AGARD, cioè Advisory Group for Aeronautical Research and Development, il cui capo era il famoso ingegnere Theodor von Kármán. Il principale obiettivo dell'AGARD era quello di migliorare e promuovere lo scambio di informazioni relativo alla ricerca e allo sviluppo aerospaziale tra i paesi della Nato. Il suo compito era di fornire consulenza scientifica e tecniche al Comitato Militare del Patto Atlantico e soprattutto per quanto riguardava le applicazioni militari aeronautiche. Nei primi mesi del 1953 SHAPE ufficializzava le nuove linee guida per l'organizzazione dei sistemi di difesa dei paesi della Nato. In realtà dobbiamo aspettare fino al dicembre del 1953 per vedere redatto ufficialmente un documento chiamato il requisito militare di base della Nato numero 1, in inglese il NATO Base Military Requirement, NBMR, che era frutto della collaborazione attiva di tutti i protagonisti di cui abbiamo fatto menzione prima. Con questo le aziende aeronautiche europee venevano invitate a presentare dei progetti per un velivolo d'attacco a basso costo, un velivolo leggero d'attacco a basso costo, denominato Lightweight Strike Fighters. Il programma LWSF passerà alla storia come il primo programma comune europeo per lo sviluppo di un caccia d'attacco. Ma qual era l'obiettivo? L'obiettivo era di dotare le aviazioni militari europee di un caccia leggero da combattimento che fosse capace di operare da superfici semipreparate e interamente realizzato in Europa. Quali dovevano essere le caratteristiche di questo nuovo caccia europeo? Innanzitutto doveva essere in grado di colpire mezzi corazzati, concentramenti di truppe, aeroporti, serbatoi, Pol, cioè Pol sta per petroli, oli e lubrificanti, bersagli immobili ed installazioni fisse sul campo di battaglia. Doveva avere capacità di interdizione contro treni, imbarcazioni o di obiettivi simili atti al trasporto di truppe. Doveva essere in grado di operare da campi di aviazioni semipreparati, autostrade o superficie ricoperte di lamiera d'acciaio perforata, cioè le grelle, con possibilità di decollo in non più di 3.500 piedi, cioè 1.100 metri, con un ostacolo a fondopista da superare di altezza massima di 50 piedi, cioè di 15 metri. Doveva avere una velocità massima di Mach 0.95 per almeno il 30% della sortita e un raggio di azione di 150 miglia nautiche e un tempo di azione sul bersaglio dagli 8 ai 10 minuti. Doveva avere una buona manovrabilità ed alta velocità di rollia, almeno 100 gradi al secondo, ad una velocità al sul livello del mare di Mach 0.9. Doveva avere armature protettive contro schegge e antiproiettile per il pilota, il serbatoio di carburante e relativi impiante. Doveva essere armato di 4 mini tagliatrici e 12 e 7 brownie o due cannoni Aden da 20 o due da 30 mm, con rispettivamente 300, 200 e 120 colpi a bordo. L'armamento addizionale avrebbe dovuto comprendere alternativamente 12 razzi da 3 pollici, cioè da 7 centimetri e mezzo, oppure due bombe da 500 libre, oppure due contenitori di napalm. In più, doveva avere la possibilità di montare sempre sull'ala, sui pylon, due ulteriori mitragliatrici oppure altri due razzi da circa un peso complessivo di 500 libre. Doveva avere un peso a vuoto di 2.000 kg e un peso totale comprensivo di armamenti di non più di 4.700 kg. Inoltre avrebbe dovuto avere come equipaggiamento di bordo, la radio UHF, un IFF e il TACA. La consegna di questo requisito a Fiat avvenne il 18 marzo del 1954. La risposta delle varie parti interessate al Lightweight Strike Fighter avrebbe dovuto essere presentata entro due mesi dall'emissione del disciplinare. Inoltre i primi 30 velivoli avrebbero dovuto essere completati entro il primo trimestre del 1957. Il gruppo di lavoro della Fiat, guidato dall'ingegner Gabriele, si mese subito al lavoro e nell'arco di pochi mesi, mettendo a frutto l'esperienza accumulate con lo sviluppo degli addestratori G82 e G80, mise a punto un progetto che venne denominato G91. In realtà mesero a frutto anche l'esperienza maturata per la costruzione che a quel tempo avveniva su Licenza dell'F86. In realtà possiamo vedere che ci sono parecchie similitudini tra il F86 Sabre e il G91. In realtà il G91 verrà anche chiamato Piccolo Sabre per questo motivo. La progettazione e costruzione del G91 NC1, cioè del primo prototipo, richiese un arco temporale veramente ristretto per quell'epoca, passando, in poco più di un anno, dai primi disegni costruttivi che portano la data del 1955 al primo volo che avvenne nell'agosto del 1956. Il G91 fu appositamente studiato come velivolo d'assalto tattico monoplano, monoposto, monoreattore, con ala bassa a sbalzo e a freccia, impennaggi a sbalzo e carrello triciclo retrattile. Particolare attenzione fu prestata la visibilità del pilota. Installato in posizioni elevate e in possibilità del muso, l'abitacolo del G91 garantiva ampia visuale in tutte le direzioni, specialmente nel settore anteriore e inferiore, per facilitare l'individuazione degli obiettivi. La zona dell'abitacolo ed altre aree sensibili del velivolo erano inoltre dotate di protezioni aggiuntive. Anche le generose superfici di comando furono accuratamente progettate per massimizzare la manobrabilità del velivolo in ogni assetto. In particolare la posizione dell'impennaggio orizzontale fu elevata il più possibile rispetto all'aree, in modo da escludere ogni dannosa interferenza tra le due. Le installazioni a bordo del G91 furono tutte elaborate al fine di renderle perfettamente idonee dal punto di vista dell'impiego e per massimizzare la facilità di manutenzione, basandosi sui principi di semplicità ed economicità. Le semiali con profilo sottile e strato limite laminare avevano un angolo di freccia di circa 35 gradi ed erano dotati di ipersostentatori e di ampi alettoni, staticamente compensati e manovrati con servocomando, atti a consentire il perfetto controllo laterale del velivolo a tutti gli assetti ed a un'alta velocità di rollia. Pure gli impennaggi erano a freccia, con un angolo uguale a quello delle semiali e con analoghe caratteristiche di profilo. Il timone di direzione e gli elevatori erano staticamente compensati mentre lo stabilizzatore era ad incidenza variabile, in volo, medante un servocomando. Il dimensionamento dei pneumatici e freni fu subordinato all'esigenza di possedere capacità di decollo ed atterraggio in breve spazio ed anche su piste semi preparate. Anche il carico alare fu mantenuto su valori relativamente bassi in modo da consentire il decollo in circa 3.500 piedi. Il combustibile fu opportunamente sistemato a cavallo del baricentro in maniera da ridurre al massimo i suoi spostamenti durante lo svolgimento della missione, ottenendo così un velivolo con comportamento sempre prevedibile e costante in ogni condizione di carico. I serbatoi furono installati esclusivamente in fusoliera sia per ottenere un'efficiente protezione con opportune corazze, sia per garantire una buona manovrabilità trasversale. La struttura inoltre è stata studiata in modo da consentire una comoda accessibilità agli impianti ed una facile riparabilità, sostituzione e manutenzione presso i reparti. Detta struttura inoltre non richiedeva l'impiego di materiali semilavorati speciali, tutti i materiali cioè erano facilmente riperibili presso l'industria europea. Come propulsore fu scelto il turbogetto Bristol-Orfeus da 2.200 kg di spinta statica a livello del mare. Particolare cura fu dedicato allo sviluppo della presa d'aria per la quale furono sviluppate almeno tre diverse configurazioni fino ad arrivare alla classica presa d'aria a bocca di squalo. L'armamento come da specifiche era costituito da quattro mitragliatrici Browning da 12,7 mm con 300 colpi per arma sistemate nella parte anteriore ed inferiore della fusoliera. Fu particolarmente curata la facilità di accesso, sostituzione, collimazione e rifornimento dei proiettili. Lo sparo delle armi poteva avvenire a coppie simmetriche oppure contemporaneamente a volontà del pilota. Sempre secondo le specifiche richieste, mediante appositi attacchi predisposti sotto ciascuna semiale, il G-91 poteva portare 12 razzi da 3 pollici in due contenitori cilindrici opportunamente carenati di 6 razzi ciascuno, oppure due bombe da 500 libri, oppure due serbatoi dal napalm, oppure due ulteriori mitragliatrici Browning da 12,7 mm in apposite gondole con 250 colpi ciascuna. I primi giorni dell'agosto del 1956 il primo protopio, l'NC1, è pronto a essere portato in volo e il 9 agosto viene portato a Torrina Caselle. Per l'occasione viene consentita la sospensione del lavoro in tutti gli stabilimenti della Fiat per consentire al personale di vedere il primo volo del G-91 e, cosa eccezionale per l'epoca, viene elergito di un premio di 5.000 lire, una somma notevole per quel tempo a tutto il personale della Fiat Avio. E così il 9 agosto del 1956 il pilota, il collaudatore, il comandante Riccardo Bignamini effettua il primo volo del G-91 sul campo di Torino Caselle. Il volo di collaudo si svolse regolarmente e senza grossi problemi, con l'eccezione della rottura dell'impianto di condizionamento all'interno dell'abitagolo ed eravamo ad agosto. L'NC1 fu subito coinvolto in un intenso programma di prove, che inclusa fra l'altro l'installazione di un nuovo impennaggio orizzontale con la pianta differente e superficie maggiore rispetto a quello iniziale, dei piloni alari per il carico bellico, di un aerofreno con fori di diametro ridotto e infine delle caratteristiche paratie antiscorrimento sull'ala. A metà febbraio del 1957 il prototipo del G-91 aveva già effettuato 27 voli prova per un totale di 22 ore e 20 minuti di volo. Nel frattempo il prototipo fu testato anche da piloti al di fuori del nucleo dei collaudatori Fiat, riportando impressioni già molto positive sul velivolo. Nei primi giorni di febbraio del 1957 il comandante Bignamini raggiunge MAC-1 in affondata. Purtroppo il 26, sempre del 1956, il 26 febbraio, il prototipo venne perduto durante delle prove relative alle vibrazioni indotte da sollecitazioni sui comandi, il cosiddetto flatter, in corrispondenza a condizioni di volo e di velocità già sperimentate precedentemente. Le vibrazioni causarono il cedimento strutturale della coda e la conseguente perdita di controllo del velivolo. Riccardo Bignamini si lanciò e se la cavò con qualche frattura la colonna vertebrale. I problemi di flatter furono risolti sul secondo prototipo, l'NC2, che fu portato in volo il 4 luglio del 1957 dal pilota collaudatore Vittorio Sanseverino e che in meno di un mese riuscì a completare 14 missioni focalizzate alla raccolta dei dati di volo necessari per predisporre l'NC3 destinato ad essere inviato per valutazione al concorso nato a Bretigny. Dal 20 luglio al 9 agosto del 1957 continuarono le prove per espandere l'inviluppo di volo. A NC2 si affiancò il nuovo NC3 per eseguire il programma di prove previsto. Ad essi si aggiunse in seguito il prototipo NC1 bis destinato a rimpiazzare il velivolo andato perduto. Pur se pesantemente penalizzato dalla perdita del primo prototipo, il programma di prove di volo era a buon punto e il velivolo italiano era pronto al passo successivo, affrontare le dure prove previste dal comitato nato e misurarsi con i velivoli concorrenti. Nel periodo del 16 settembre al 5 settembre del 1957 il Fiat G91 NC3 fu inviato a Bretigny per le prove comparative del concorso nato. Il 27 settembre adesso si aggiunge anche il G91 NC1 bis che però rimase a terra data la costante efficienza dell'Ngc3. Il secondo esemplare si rivelò comunque utilissimo per le verifiche a terra delle varie commissioni per i visitatori ufficiali. Il ciclo delle prove si svolse secondo uno schema predisposto dal sottocomitato prove di volo della Nato. Questo includeva tutte le prove per una valutazione tecnica del velivolo sotto gli aspetti di ergonometria e controllabilità sia a terra che in volo. Furono effettuate moltissime simulazioni di impiego operativo, incluse alcune per rilevare i tempi di smontaggio e rimontaggio del motore, degli allettoni e di altri elementi strutturali. Il G91 si dimostrò sin da subito molto maturo, superando con assoluta regolarità tutte le prove ed esaurendo il programma in anticipo sulla data prefissata. Insieme ai tecnici Fiat fu distaccato a Bretigny anche un gruppo di ufficiali dell'aeronautica militare italiana. Infatti l'11 settembre giunsero in Francia il maggiore pilota Michele Collagiovanni, il maggiore Gary Enzo Bianchi e il capitano pilota Pietro Trevisan del riparto sperimentale di volo. Al team dell'aeronautica furono assegnati quattro voli sul G91, tutti effettuati dal capitano Trevisan ed uno ciascuno sui velivoli concorrenti. Ma quali erano gli altri concorrenti di questo concorso? Erano tre velivoli francesi, in particolare il Breguet BR1001 Tahon, il Dassault Etendard 6 e il Sud Aviation Baradar. Al termine del concorso nato di Bretigny, pur mancando la comunicazione ufficiale della notizia, si dava per molto probabile la formazione del G91 sugli avversari francesi. Qualora questa vittoria fosse stata confermata, Fiat si aspettava una grande produzione in serie su licenze in molti paesi europei. Il risultato ufficiale finale del concorso fu frutto di un compromesso per cui si raccomandava, e qui cito, che il velivolo G91 sia designato come il caccia tattico leggeronato standard per i primi squadroni operativi e che un progetto francese sia preso in considerazione per l'immediato e rapido sviluppo del caccia tattico leggeronato della seconda generazione per il periodo seguente al 1961. In realtà ragioni politiche di impiego operativi fecero sì che questo programma paneuropeo non divenisse mai realtà. Infatti diversi paesi si defilarono immediatamente dal programma Lightweight Strike Fighter. Dopo il rientro da Bretigny furono effettuati numerosi voli sui tre prototipi, nel corso dei quali furono introdotte e valutate le modifiche suggerite dai risultati del concorso. Queste modifiche miravano ad ottenere una migliore armonizzazione dei comandi di volo, del velivolo e una volta integrate diedero immediatamente risultati molto soddisfacenti. Mentre le valutazioni degli organi tecnici della Nato, destinate a decretuare il vincitore per la specifica NATO Base Military Requirement 1 erano ancora in corso, l'aeronautica militare e la Fiat decisero di comune accordo di portare comunque avanti il programma G91 e di impostare una prima preserie di 27 cellule. Il G91 venne acquistato dall'aeronautico militare in 127 esemplari nelle versioni G91, poi in buona parte trasformati nella versione Pan, G91 R1, R1A e R1B. Questi velivoli andarono ad equipaggiare a partire dal 1959, dopo le prove intensive presso il reparto sperimentale di volo, il centotresimo gruppo, il quattordicesimo gruppo, il tredicesimo gruppo e il trecentotredicesimo gruppo della pattuglia acrobatica nazionale. La Germania decise di acquisire il velivolo affettuosamente ribattezzato GINA dai suoi piloti e ne produsse su licenza ben 344 esemplari, riuscendo ad riavviare la propria industria aeronautica. 40 G91 R4 della Luftwaffe furono ceduti nel 1965 al Portogallo che li impiegò in Mozambico, Angola e Guinea-Bissau. Questi in effetti poi furono gli unici teatri operativi reali in cui il G91 fu impiegato. Amici abbiamo visto fino adesso come è nato il G91, la sua storia, però per parlare del G91 italiano, qui vediamo un esemplare qua dietro, non sono forse la persona più adatta, ho qualche ora di G91 ma non ho una grande esperienza, per questo motivo ho invitato una persona che ha una grandissima esperienza sull'aeroplano e il quale vi racconterà com'era la vita operativa nei reparti e com'erano le caratteristiche del G91. Perciò ringrazio il comandante Mario Antoniazza di essere con noi oggi, un pilota di grandissima esperienza con più di 4.000 ore di volo sulla macchina e sarà lui che vi racconterà come era in realtà il G91 presso i nostri reparti. Comandante, dici qualcosa di te prima di cominciare. In genere non sono abituato a parlare di me perché quando si invita la gente a parlare della propria vita vuole dire che cominciano ad esserci un po' di primavere sulle spalle, un po' di autunni, come meglio vedete. Comunque ci provo, io sono nato a Varese il 22 febbraio del 1951, era un giovedì, è un giorno dedicato a Giove, Dio della luce e del cielo. Nasco nella culla aeronautica nel Varesotto, infatti io nelle prime poppate ho preso subito la malattia del bacillus icari dal quale poi non sono più guarito. Durante la mia permanenza all'istituto tecnico di Varese, un giorno ho visto una locandina che presentava i corsi di cultura aeronautica. Mi sono iscritto nel 67 e ho frequentato uno di questi corsi a Gorizia. La malattia è esplosa completamente, tanto è vero che poi ritornando a casa sono riuscito a convincere dei miei a iscrivermi all'aeroclub di Venegono, dove ho conseguito il brevetto di primo e secondo grado. Contemporaneamente ho cercato di entrare in aeronautica militare e nel 72, da buon ascaro dell'87esimo corso OPC, sono entrato in Accademia per cercare di realizzare il mio sogno, il sogno della mia vita che era quello di volare su aerei militari. Dopo il tirocinio in Accademia di 6-7 mesi sono stato inviato a Lecce dove pazienti, istruttori hanno bagnato le mie piume sulle mie alucce e sono diventato pilota di aeroplano. In 6 siamo stati scelti per essere inviati, anzi in 7, siamo stati scelti per essere inviati poi alla scuola di volo basico avanzato, agli oggetti, dove ho incontrato il G91T, che poi è diventato il mio grande amore. Nel 73 ho potuto mettere la corona sull'Aquila, me l'hanno appuntata e dal 73 al 74 ho potuto conoscere a Grottaglie, perché sono stato inviato verso la scuola centrale gli istruttori di Grottaglie il Texan T6, un aeroplano ad elica al quale io tuttora do del tu, perché è un aeroplano importante. Finito il periodo di Grottaglie, nel 74 finalmente sono stato inviato al secondo stormo di Treviso, presso il 103esimo gruppo e lì ho conseguito la qualifica di pilota combatredi. La magnanimità e la lungimiranza dei comandanti di gruppo e di stormo hanno fatto in modo di farmi frequentare, oggi si chiamerebbero master, una volta si chiamavano corsi, infatti a Guidogna sono stato inviato a Guidogna per frequentare i corsi di ricognizione della vista, che è un po' il nostro mestiere, assieme a quello fotografico e il corso di FAC, che è Forward Air Controller, per guidare in poche parole, è una parola importante, ma in effetti ci hanno insegnato a guidare a vista i velivoli su obiettivi a terra, perché uno dei nostri mestieri al gruppo era quello di eseguire le operazioni casclose a support. Nel 1978 decisi di sposarmi con Orianna, ma l'aeronautica ha pensato bene di mettermi una priorità davanti al matrimonio, inviandomi a fare il corso di istruttore a Lecce, per cui durante l'attività volativa sono arrivato a casa il venerdì pomeriggio, il domenica ci siamo sposati, il sabato ci siamo sposati e la domenica poi siamo ripartiti per Lecce, dove ho trovato una camerezza allestita nell'alloggio ufficiale, allestita dai miei colleghi di corso con i letti uniti e quella è stata la nostra luna di miele, il viaggio di nozze. Dopo aver conseguito la qualifica di istruttore sul Machi MB 326 e dopo un breve addestramento, sono conseguito anche la qualifica di pilota di istruttore sul G91T ad Amendola. Dico la verità perché in genere alle scuole si va piangendo con le lacrime agli occhi perché si lascia il reparto per un'altra attività, però devo essere sincero, durante questo periodo è stato forse il periodo più gratificante nella mia carriera perché ho potuto incontrare amici ma soprattutto formare altri piloti. in quel periodo sempre per aumentare le mie qualifiche professionali sono diventato esaminatore ed ho anche conseguito, ho fatto il corso di pilota istruttore di tiro tattica a decimo mano. Allora ero alto, bello, biondo, con gli occhi azzurri, poi i G che ho dovuto sopportare durante i poligoni e anche delle trapazzate che mi davano i ragazzi ai quali insegnavo magari a fare qualche manovra acrobatica fatta bene, hanno ridotto la mia struttura a quella che è adesso, i cappelli sono diventati un po' d'argento e ho perso anche qualche anno di vita. Comunque nell'83 sono ritornato a Treviso, ho rifatto la qualifica di combat Tredi fino al 1989 dove mamma aeronautica ha deciso che io lasciassi l'armatura del Cavaliere Nero di Breus del secondo stormo per indossare la pelliccia del gatto del 51esimo stormo che cacciava i sorci verdi, perché in quel aeroporto nello stormo ho avuto la fortuna e l'onore di fare la transizione sul velivolo MX, sono stato uno dei primi 3 piloti di reparto a fare la transizione fatta dai colleghi della SAS, della sezione addestramento e standardizzazione di Treviso. Nel 1992 ho deciso di appendere, diventato tenente colonnello, ma non per qualità perché dicono che col tempo maturano anche le nespole, sono diventato tenente colonnello e ho deciso di lasciare l'attività volativa e di dedicarmi alla mia attività che ancora oggi prosegue che è imprenditoriale. Nel frattempo la nostra cara Madonnina di Loreto che è la nostra potetrice ha permesso che io faccia circa 4 mila ore di volo in tutta sicurezza. Ora ho potuto anche creare un gruppo Facebook nel quale raccolgo tutti gli amici e i piloti dei vari G91, del G91, Y, T, R e Pan, ormai siamo arrivati a 4.600 iscritti e questo mi dà la possibilità di far conoscere il G91 molto più approfonditamente. Mario, io ho l'onore di essere parte di questo gruppo anche se ho poche ore di G91. Io e te condividiamo questo bacillo di Icaro, abbiamo questa passione comune per il volo, però abbiamo una differenza, la mia esperienza di reparto è sui 104 e la tua sul G91. Allora volevo chiederti com'era in effetti la vita di un reparto che volava sui G91, in particolar modo del 103 gruppo del secondo stormo, parliamo appunto degli anni 70 e 80. Volevo che tu raccontassi un pochino ai nostri spettatori com'era la vita dei reparti di quegli anni. G91 R è stato creato come aeroplano caccia bombardiere da appoggio tattico, quindi era un aeroplano che era dedicato alle operazioni di close, a support e alle ricognizioni. Infatti la qualifica di pilota combat trader era molto variegata, perché si partiva nell'eseguire una serie di missioni tutte positive, con le tre macchine fotografiche. Il G91 R aveva possibilità, installato sul musetto aveva tre macchine fotografiche che poi magari vediamo meglio. C'era una sinistra, una sinistra, una destra e una frontale. La sinistra poteva essere inclinata verso il basso per poter fare riprese verticali. È chiaro che le riprese dovevano essere fatte come conferma della ricognizione a vista. In effetti la ricognizione a vista si sottovaluta un attimo, però era la parte principale, perché ammetti che le macchine fotografiche non funzionassero, i dati sull'obiettivo dovevano essere comunque portati a casa. Vi assicuro che non è semplice pilotare, fare la ripresa fotografica, guardare e ricordare quello che si è guardato. C'era qualche trucco, mi ricordo, anche io da pilota ricognitore di 104 che si usava per memorizzare o per contare qualsiasi cosa rivedesse a terra. Sì, poi ognuno aveva la propria tecnica che poi venivano insegnati anche nei corsi. Ma la vita al reparto come era? Quanti piloti avevate al 103? Quante macchine? Quante attività di volo si faceva ogni giorno e di che tiro? Il numero di piloti al reparto era elevato, era anche una trentina di piloti, erano molti piloti, un numero molto maggiore rispetto ai piloti di gruppi intercettori. I velivoli altrettanto erano numerosi, anche là si raggiungevano 25, 30 aeroplani e devo dire che l'efficienza era notevole. D'altra parte abbiamo visto prima che il G91 è stato costruito per essere un aeroplano facile da manutenere e da mandare in volo in tempi stretti. Normalmente l'attività di un pilota prevedeva due voli al giorno, anche tre. Tenete presente che, date le caratteristiche del G91, un volo del G91 AR o PAN per la pattuglia durava molto meno che non un velivolo intercettori, in quanto l'autonomia bassa quota era di circa 150 media, quindi in un'ora si faceva la missione. Il primo volo al mattino era dedicato, erano le slot di Magnago, perché una delle attività principali del pilota combattreti era quello di riuscire bene nello sgancio dell'armamento, quindi si usavano i poligoni previsti, noi a Treviso avevamo quello di Magnago, poi c'era un poligono per gli altri cugini di Brindisi che era appunto della Contessa e una volta all'anno si andava a decimo manu per la campagna dei tiri, dove anche a Teulada si poteva sganciare l'armamento reale. Finito il ritornati dal poligono, i velivoli erano approntati molto rapidamente per le missioni di bassa quota, ricognizione a vista, ricognizione fotografiche e operazioni on call di aerocooperazioni. Come dicevi tu, il G91 era molto spartano, era stato creato anche per operare da piste erbose, tanto è vero che era previsto anche una piastra ventrale per il montaggio del raggiato, per il decollo corto. Era previsto anche un parafreno per accorciare le distanze di frenata e i portelloni delle armi, perché il G91 aveva montato 4 mitragliatrici Browning da 12 a 7 con 250 colpi ciascuno e per cercare di diminuire i tempi di approntamento i portelloni con le armi scariche venivano letteralmente tolti e montati. Perché le Browning erano montate sul portellone, non sulla fusoliera, quindi si levava il portellone con le Browning, le 12 a 7 se ne montava un altro già pronto e caricato. Esattamente. Ed anche la messa in moto, contrariamente agli altri velivoli della Forza Armata di quel periodo, il 326 che aveva l'avviamento elettrico, il 104 che aveva l'avviamento ad aria compressa, l'avviamento del 91 avveniva mediante delle cartucce, cartucce di cordite che venivano messe a bordo, erano due. Lo scoppio di queste cartucce inviava il gas di scarico ad alta pressione sulla turbina che cominciava a ruotare e si autososteneva. Poi c'è da dire che le cartucce, ho un bel ricordo di queste cartucce, perché mi hanno salvato da un lancio sicuro, perché ho avuto un flame out durante proprio una campagna di tiro a decimo mano. Ricordo che sono decollato da leader per recarmi al poligono, durante il ricongiungimento era previsto una virata a destra riducendo il motore attorno ai 300 nodi, aspettando gli altri tre velivoli che ricongiungessero, in quel momento ho avuto spegnimento della fiamma, spegnimento del motore. E lì ho avuto panico, ho avuto paura perché non vi aspettavo una reazione di quel genere da parte del G91. Tenete presente che noi facevamo, sia nella parte istituzionale e anche nel reparto, facevamo molto addestramento sui cosiddetti simulati, cioè sono circuiti dove si cercava di imparare ad atterrare col motore spento. Però devo dirvi che col motore realmente spento, per mantenere il 16% dei giri della turbina che era necessario per fare la recensione calda, bisognava dare un assetto talmente picchiato che la terra veniva incontro molto, molto rapidamente. Ho provato la recensione calda, senza esito, mi stavo preparando al lancio, ho pensato che avevo una turbina, che avevo una cartuccia in turbina ancora buona, l'ho accesa e il motore è ripartito, per cui sono ritornato di corso al parcheggio, però ho evitato il lancio. Salvato da una cartuccia. Salvato da una cartuccia. Perciò l'attività che si faceva al reparto, ve ne hai parlato, si faceva anche molta acrobazia, allora mi ricordo, sempre in due o in quattro, era una parte fondamentale dell'addestramento, tu pensi che fosse una parte fondamentale dell'addestramento di un piloto o era qualcosa che veniva più dalla tradizione aeronautica di quegli anni? In altre parole, era utile tutta l'acrobazia in formazione che si faceva, al di là poi delle manifestazioni, dei passaggi del 2 giugno? Devo dire che era utile sia per le manifestazioni che si facevano in quel periodo, ma soprattutto la formazione in ala, o in due o in quattro, permetteva di abituarci a mantenere la posizione anche in tutti gli assetti. Perché? Perché il G91 non era un aeroplano molto attrezzato per le navigazioni IFR, noi avevamo solamente una NDB, un ADF, nell'R1A addirittura con la manovella, nell'R1B era già quarsata, quindi era già un passo avanti, e un orizzonte artificiale che precessionava con le manovre. Le sfogate erano già fuori. Per cui quando capitava di entrare in condizioni di India Mike, che poteva capitare durante le basse quote. Sì scusa, India Mike vuol dire volo strumentale, giusto per chi non fosse molto adentro, cioè entrare praticamente dentro le nubi, perdere i riferimenti esterni a vista. E allora bisognava assolutamente mantenere la formazione. l'addestramento in coppia permetteva anche questo, cioè avere la possibilità di addestrarsi e mantenere la posizione in tutti questi assetti. E anche in condizioni di vertigine. perché era una situazione che poteva capitare ed era veramente pericolosa. Ok, ma adesso abbiamo parlato un po' dell'impiego e della vita di reparto. Ma com'era il G91 da volare come pilota? In termini diciamo abbastanza semplici senza entrare troppo nel tecnico. Com'era come aeroplano da volare? Raccontaci un po' come era proprio... Tu hai avuto poi esperienze anche su altre macchine per cui puoi fare anche... Che aeroplano era il G91? E allora, il G91 era un aeroplano, era un cavallino di razza. Era un aeroplano nervoso, era un aeroplano difficile da trimmare, però era un aeroplano che indossavi. Io dico sempre che quando il pilota si sedeva nell'abitacolo e si stringeva e si allacciava al seggiolino, diventava tutt'uno con l'aeroplano. Era un aeroplano, era un velivolo che doveva essere pilotato, che doveva essere controllato, che dava soddisfazioni ma che non doveva essere, come posso dire, accarezzato contro pelo. Tartato con i guanti. Tartato con i guanti. Ci voleva il pugno di ferro nel guanto di velluto. Era un aeroplano che doveva essere pilotato veramente. non c'erano momenti di rilassamento e soprattutto in alcuni momenti del volo, per esempio in atterraggio, doveva essere veramente controllato. La virata base doveva essere fatta con tutti i sacri crismi, come si dice, e la velocità doveva essere veramente controllata. Questo era perché aveva questa caratteristica alla freccia, che era un po' anche tipica di quegli anni. La freccia gli dava delle caratteristiche di volo che gli consentivano di operare nel regime transonico con più facilità, però contemporaneamente ti dava dei problemi alle basse velocità, per cui aveva questa tendenza a stallare prima con la radice dell'ala, prima che con l'estremità, per cui aveva delle caratteristiche di stralle, mi ricordo, abbastanza brusche, insomma, e richiedeva molto rispetto, soprattutto alle basse velocità, come dicevo. Cioè era un aeroplano che dovevi tenere allegro di velocità, non potevi permetterti, soprattutto in combattimento aereo, di andare e di far scalare la velocità, l'energia era tutto. Assolutamente no. Infatti bisognava tenere in mente bene queste caratteristiche. C'è da dire che l'R era meno ostico del G91T, perché il G91T era molto più pesante, poi il G91T aveva un campo di velocità che era previsto tra i 210 e i 310 nodi, dove uno sforzo superiore sulla barra, specialmente in tirata, presupponeva l'entrata in buffeting. Quindi vuol dire che si variava l'assetto, però non c'era una corrispondenza di variazione nella traiettoria. Sì, me lo ricordo il G91, aveva questa tendenza, era una vibrazione continua, soprattutto da allievi che non avevi la manina morbida, era un cavallo veramente difficile da domare. Comunque ha insegnato moltissimo proprio perché era difficile. Esatto, infatti mi ricordo uno di questi, per sottolineare questa caratteristica del G91T, mi ricordo che negli anni 80 la Forza Armata aveva pensato di sostituire i G91 Pan delle frecce tricolori con il G91T. Noi eravamo come istruttori a fare la campagna di tiro con un corso dell'Accademia a rivolto per il poligono di Magnago. Siamo stati inseriti, secondo i piloti, in un volo di addestramento della pattuglia, davanti c'era Gallus ancora. e siamo andati in volo in sei con i piloti della Pan. E lì abbiamo sperimentato cosa vuol dire la fiducia dei piloti della Pan perché Gallus aveva impostato il loop in di entrata, mi ricordo, più o meno con gli stessi parametri e le stesse quote soprattutto con il Pan. Alla sommità del looping il T ha cominciato a vibrare. Tutti e sei insieme. Tutti e sei abbiamo vibrato, non solo gli aeroplani, abbiamo vibrato un po' tutti. Comunque la manina di Gallus ha fatto in modo tale da uscire comunque in tutta sicurezza da quel looping, però in effetti ha dimostrato che il T non era... Lì è finita l'avventura del Ticolo. Esatto. L'aeroplano delle frecce tricolori. Esatto. Era un aeroplano figlio di quegli anni per cui volevo sottolineare il fatto che non aveva radar, radar warning receiver, non aveva chaffè flare, non aveva un computer per il calcolo degli angoli di sgancio e tutto quanto, per cui aveva il chiodo, come noi chiamavamo il chiodo, come l'aveva il barone rosso Francesco Baracca. Per cui la precisione e il raggiungimento degli obiettivi erano e ricadevano esclusivamente sulle spalle dei piloti come Mario qui. E questo dice molto sull'abilità e il coraggio, devo dire, perché andare in giro con macchine così, passatemi il termine inglese, challenging, come il G91, non era da tutti e soprattutto richiedeva un grande addestramento. Mario, tu ci hai già raccontato il flame out, ci sono altri episodi che hai avuto sul G91 che ti va di raccontarci? Ritornando al discorso che facevi tu dell'equipaggiamento per la navigazione, che non c'era, e ritornando a parlare del famoso orizzonte artificiale, ricordo che una volta sono stato incaricato di eseguire un passaggio, una ricognizione fotografica dalle parti di Pennabilli, vicino a San Marino, a Pennino Emiliano. E lì c'era uno schieramento dell'esercito, c'era un sacco di stelle, stelle, stellette, generali e generaloni. Una vera Manfrina. Esatto, era la cosiddetta Manfrina, noi chiamavamo Manfrina. Manfrina, si chiamava Manfrina. Dovevamo essere in due, chiaramente il numero due al decollo ha avuto varia radio, quindi sono partito comunque da solo. Il tempo era coperto, più sono alti i gradi, più c'è presenza di stellette e più i discorsi sono lunghi, e più i tempi di attesa per l'intervento si amplificano, quindi avevo già deciso di atterrare poi a Cervia, perché ormai il carburante nelle tanniche era quasi finito. Ricevo l'autorizzazione al passaggio, faccio il mio passaggio, tutti quanti col naso in su, ritorno e da un rapido conto per il carburante, decido invece di atterrare a Cervia, di aprire un piano di volo, quindi salire a livello 250 e fare una procedura strumentale poi con inserimento Chioggia e Treviso. Resetto il mio orizzonte, apro il piano di volo, metto Plua verso Chioggia e entro in nube. A quel punto normalmente il pilota segue l'orizzonte artificiale. Mi accorgevo che però continuavo a dare motore, continuavo a inclinare da una parte, la velocità scalava e mi sono accorto di essere entrato in posizione inusuale da muso alto in India Bike. In totale vertigine. In totale vertigine. Non sapevo cosa fare, ormai avevo accarezzato una delle due maniglie per ietarmi. Di addestramento la rimessa a posizione inusuale ne avevamo fatte tante, però era diverso. Era diverso perché la teoria è diversa dalla pratica. Capisco di essere comunque in posizione con muso alto e inclinato. L'orizzonte non potevo più affidarmi e qua entra l'addestramento nel buon T6, dove si faceva anche, forse qualcuno se lo ricorderà, addestramento al volo strumentale in tendina, quindi chiuso dentro in tendina, col cuscotto ridotto. La pallina e la paletta. La pallina e la paletta. Già il T6 aveva tanti strumenti, il cuscotto ridotto. Però quello mi ha salvato anche quello perché basandomi sulla pallina, la paletta e il variometro sono riuscito a rimettere l'aeroplano col muso basso, a fermare la rotazione e dopo di che sono uscito e ho deciso di atterrare. Per i nostri amici la pallina e la paletta è uno strumento molto piccolo e molto basico che si usava già ai tempi della Prima Guerra Mondiale, dove praticamente la pallina è una pallina inserita in una specie di pendolo che ti dovrebbe dire la tua posizione di imbardata e la paletta è una lancettina che ti dice esclusivamente se sei inclinato a sinistro o a destra. Usando solo quello strumento uno dovrebbe riuscire a mettere l'aeroplano dritto, metterle le ali livellate e usando il variometro capire se si sta scendendo e salendo. Questo mentre il tuo cervello ti urla che stai in tutta altra posizione assicuro. Mi è capitato anche a me la vertigia, il GMC è la cosa più brutta che possa capitare a un pilota. Mario, io ti ringrazio veramente per averci raccontato queste cose del G91 e ti vorrei lasciare ricordando tutti i piloti che hanno volato su questa macchina eccezionale, ricordando tutti i caduti che abbiamo avuto su questa macchina in tanti anni di aeronautica americata. ricordiamoci che l'abbiamo avuto in linea in aeronautica per 30 anni e ti ringrazio di nuovo per essere stato con noi oggi e per averci raccontato del G91. Grazie a voi per avermi invitato. Grazie davvero. Grazie. 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 Grazie.